Ciao Youtube, siamo alle pendici del Monte Subasio, ecco qui c'è il solare termico da 30 tubi sotto vuoto, fase di riempimento e questo è il Monte Subasio della magnifica terra Umbria, con cui consiglio a tutti di iniziare a fare un po' di vacanza come ha fatto il mondo. Il resto della mia famiglia. E anche questo è tutto, 30 tubi e 400 litri. Ciao Youtube!